Benvenuti al vostro oroscopo quotidiano per oggi, 17 agosto. Come ogni giorno, vi guideremo attraverso le stelle per scoprire cosa hanno in serbo per voi. Ariete. Oggi vi sentirete rinascere, soprattutto grazie ad un rinnovato interesse da parte del partner. Questo vi darà modo di capirlo meglio e di realizzare anche i vostri desideri più segreti. Se siete single, le stelle vi daranno la spinta per voltare pagina e lasciarvi alle spalle le delusioni, guardate al futuro con fiducia. Avrete voglia di nuove avventure o di ampliare le vostre esperienze attuali. Al lavoro, potreste incontrare persone che vi aiuteranno a migliorare la vostra situazione. Se volete avanzare richieste o proporre idee al capo, oggi è il giorno giusto. È il momento di fare il punto della situazione. Rivedere periodicamente i propri progressi aiuta a comprendere dove si è arrivati e quale sarà il prossimo passo. La scorsa settimana è stata intensa, ma fortunatamente è finita. Anche se potreste sentirvi un po' nostalgici per la fine delle festività, sotto sotto siete contenti di ritornare alla vostra routine quotidiana e ai vostri impegni? Sarà un sabato impegnativo, con molte cose da sistemare e partenze da organizzare. TORO Oggi è giornata di calma piatta. Alcune coppie dovranno armarsi di pazienza e mantenere la calma nelle discussioni. Non ostinatevi a voler avere sempre ragione, a volte è meglio cedere e trovare un compromesso. La gelosia, purtroppo, potrebbe creare tensioni, con entrambi i partner che si alternano nei ruoli di investigatore e indagato. Se siete single, potreste sentirvi meno ottimisti del solito, ma non preoccupatevi. Siete solo un po' impresi da altre cose. Al lavoro, evitate di dare troppo peso a piccole polemiche. Soprattutto, astenetevi dal prendere posizione o fare commenti che potrebbero essere fraintesi o causarvi problemi. Dopo una settimana impegnativa ma soddisfacente, presto dovrete riprendere la routine quotidiana. A volte nutrite dubbi su voi stessi o sulle persone che amate. La vostra vita sembra una battaglia costante. Alcuni potrebbero aver criticato il vostro operato o chi siete ma è importante non lasciarsi influenzare dalle parole invidiose degli altri. Continuate per la vostra strada, con educazione e rispetto. Per chi ha figli, dare il buon esempio può essere una sfida. Godetevi questo weekend senza pensare troppo. Gemelli La tenerezza sarà al centro della vostra relazione di coppia. Vi sentirete ispirati a mostrare il vostro lato più dolce e delicato, riuscendo a esprimere i vostri sentimenti al partner con profonda sincerità e amore. Se siete single, oggi sarete pronti ad affrontare scelte importanti e ad assumervi responsabilità che forse non avreste mai pensato di accettare. Probabilmente è perché vi sentite finalmente più maturi e sicuri di voi stessi, pronti a innamorarvi di nuovo. Se cercate lavoro, questo è il momento giusto per inviare candidature e curriculum, non scoraggiatevi di fronte ai primi e no. La fortuna è dalla vostra parte e potrebbe sorprendervi quando meno ve lo aspettate. La vita è preziosa e fugace. Meritate di essere circondati da persone che vi fanno stare bene, anziché da chi vi critica costantemente. Se c'è qualcuno che vi fa sentire a disagio potrebbe essere il momento di affrontare la questione, magari con una conversazione franca o una email. Niente è perduto e la speranza è sempre viva. Attenzione al traffico e alle code, potreste rischiare un mal di testa debilitante. Approfittate di questo weekend per fare un po' di ordine attorno e dentro di voi. Cancro Le stelle vi aiuteranno a sintonizzarvi perfettamente con la vostra dolce metà. Date priorità all'ascolto, che è sempre stato il vostro punto di forza, e sfruttatelo per organizzare una serata speciale con il partner. Se siete single, oggi è il giorno ideale per dichiararvi a chi vi fa battere il cuore. Sarà una delle giornate più fortunate dell'anno per i sentimenti, e le vostre emozioni potrebbero essere ampiamente ricambiate. Al lavoro, avrete l'opportunità di gettare solide basi per un futuro sicuro. Non tralasciate nulla e ponetevi domande a cui rispondere con concretezza, senza esitazioni. Questo è il momento di agire, non di aspettare. Ci saranno delle cose da sistemare. Il mondo è pieno di meraviglie ma spesso avete paura di uscire dal vostro guscio e di commettere errori irreparabili. Tuttavia, ogni problema ha una soluzione. Nonostante i vostri numerosi hobby come lo shopping, la tv o la cucina, sentite ancora che manca qualcosa. Scavate in profondità e non fingete che tutto vada bene. Una persona a voi cara saprà motivarvi e indicarvi la strada giusta. Questa sarà una settimana importante in cui finalmente rimetterete ordine e riprenderete il controllo della situazione. La passione è alle stelle così come il vostro incommensurabile fascino. Leone Venere favorirà una comunicazione costruttiva nella vostra vita sentimentale. Questo pianeta vi regalerà un'atmosfera di affiatamento e partecipazione emotiva. La serata sarà avvolta da un romanticismo da assaporare lentamente, proprio come piace a voi. Se siete singole sentite di aver trovato la persona giusta, affidatevi al destino con il cuore aperto e senza paure. Siate sempre voi stessi, senza maschere. Godetevi il momento presente. Sul lavoro, l'impegno e l'entusiasmo porteranno soddisfazioni finanziarie e nuove opportunità potrebbero presto aprirsi. L'oroscopo del sabato dona la giusta determinazione. Potreste essere impegnati in viaggi o lavori in casa. Valutate la possibilità di ristrutturare, fare riparazioni o cambiare mobili nel prossimo ottuno-inverno. Usate questa energia creativa per ottenere il massimo. L'amore sarà al centro della scena e chi è innamorato sarà ricambiato anche se per colpa dell'insicurezza e della timidezza nessuno dei due potrebbe tentare un approccio. Le coppie in crisi dovrebbero tentare di flirtare come i primi tempi, senza però cedere più di tanto in modo da tenere alta la libido e il desiderio dell'altro. Vergine. Potrebbe essere il momento giusto per una pausa di riflessione e per aggiornare le vostre strategie. Quest'ultima parte della settimana sarà fondamentale per prendere decisioni importanti. C'è qualcosa in fermento, e sarà essenziale muoversi nella giusta direzione. Se vi sentite confusi o smarriti, invece di combattere queste sensazioni, cercate di indagare la causa del problema. La vita di coppia promette scintille anche se non sempre sarete d'accordo su tutto. In famiglia, cercate di promuovere il dialogo senza insistere troppo ostinatamente. Bilancia. Oggi sarà una giornata positiva, ma dovrete impegnarvi per renderla vivace. Cercate di introdurre qualche attività divertente con amici o partner per evitare la monotonia. In amore, vivrete belle sensazioni, ma ricordate di non esagerare. Se siete single, il periodo sarà favorevole, potrete vivere momenti di tenerezza e intesa con qualcuno di speciale. Al lavoro, fate attenzione a non essere troppo superficiali, un progetto importante richiederà impegno e costanza. Credete sempre in voi stessi e in tutto ciò che fate. La vostra sicurezza sarà la chiave per migliorare sempre di più. Sarà una giornata particolarmente significativa. Entro domenica prossima, sarete al centro di un evento importante, quindi non date nulla per scontato. Cercate di mantenere un atteggiamento positivo perché nella vita ci sono molte cose belle. Anche se al momento non avete progetti concreti, presto potreste riprendere un vecchio obiettivo. Espandete i vostri orizzonti, specialmente se desiderate migliorare le vostre finanze. Le prossime due settimane saranno cruciali per riflettere sulle strategie da adottare e sulle soluzioni innovative da implementare. Scorpione Sabato sarà una giornata tranquilla, ma non sottovalutatela. Le relazioni personali saranno al centro dell'attenzione, con l'amore in primo piano. Riuscirete a trovare facilmente un compromesso con il partner, rafforzando il vostro legame. A metà giornata potrebbe esserci un piccolo malinteso, evitate discussioni accese. Se siete single, avrete l'opportunità di esprimere la vostra dolcezza a qualcuno di speciale. Al lavoro, la giornata porterà nuove iniziative, l'intraprendenza sarà la chiave per superare ogni problema e trarre il meglio da qualsiasi situazione. Questo è un periodo piacevole per i sentimenti e il divertimento. Vi sentite spesso un passo avanti rispetto agli altri. Sono previsti incontri importanti. Qualcuno vi desidera, forse un vicino di casa. Desiderate l'amore È un weekend di transizione, utile per ritrovare l'equilibrio interiore. Potreste considerare di iniziare una dieta e seguire una regolare attività fisica. Aprite il vostro cuore e confidatevi con una persona cara. Parlare aiuta ad alleviare il peso della sofferenza o di un problema. Nessun ostacolo è insormontabile. Sagittario Il primo giorno di weekend si prospetta come una giornata fortunata e piena di emozioni. In amore, ti sentirai particolarmente vicino al tuo partner e potrai vivere una serata romantica e intensa. Se sei stato tormentato dalla gelosia, stai tranquillo, una buona notizia è in arrivo. I single saranno ottimisti e determinati a trovare qualcuno di speciale. Presto potrete vivere momenti di grande emozione con una persona dolcissima. Sul lavoro, avrai l'energia e la determinazione necessaria per prendere decisioni coraggiose e fare scelte importanti. Se aspirate all'eccellenza, dovrete lavorare sotto. Non ci sono scorciatoie, solo tanto impegno e le giuste connessioni. Cercate di condurre una vita attiva e di frequentare ambienti stimolanti. Questo è un periodo positivo, perfetto per socializzare e stringere contatti validi. Entro la fine dell'anno sarete protagonisti di un cambiamento che trasformerà la vostra vita. Il successo dipenderà unicamente da voi. Attenzione alle code, i viaggi potrebbero non essere favoriti. Capricorno La giornata di sabato inizierà bene, ma richiederà tutta la tua attenzione ed energia. In amore, avrai il favore delle stelle per superare situazioni complicate e trascorrere momenti piacevoli con la persona amata. La luna potrebbe dare un forte scossone a un rapporto ormai stanco, quindi cerca di arricchirlo con coccole e sorprese. I single dovranno superare diversi dubbi per poter sfruttare pienamente tutto il loro fascino. Preparatevi a conquistare chi vi attrae. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno, è il momento di puntare in alto e lavorare su nuovi progetti con determinazione. Questo sabato richiede cautela. Da tempo desiderate un cambiamento, e presto sarà il momento di tornare a lavorare o studiare, un pensiero che potrebbe causarvi un po' di ansia. Settembre e ottobre saranno mesi cruciali, durante i quali potrebbe accadere qualcosa di importante. Potrebbe esserci agitazione nelle prossime 24 ore, forse dovrete spostarvi o riorganizzare la casa. Alcune famiglie potrebbero doversi separare temporaneamente ma le vacanze di Natale offriranno l'opportunità di riunirsi quindi non siate nostalgici. Amore e incontri sfavoriti in questo fine settimana. Acquario La luna nel tuo segno porterà fortuna e positività in questo inizio di weekend. Sabato sarà una giornata molto positiva per chi vive in coppia come anche per quelli eternamente in cerca di un nuovo legame. La luna migliorerà l'intesa con il partner e risveglierà la passione. I single, pieni di buon umore, attireranno l'attenzione e diffonderanno positività intorno a sé. Sul lavoro, le stelle favoriranno il successo, mettendo in luce la tua intelligenza e dinamismo. Avrai finalmente quel riconoscimento che aspetti da tempo. Sabato sfortunato I problemi di coppia potrebbero richiedere un po' di vivacità. L'amore è fatto di alti e bassi, e talvolta potrebbe sembrare che il partner non sia dalla vostra parte o addirittura che remi contro di voi. Un gesto gentile potrebbe migliorare questo sabato, che si preannuncia piuttosto caotico. Possibili difficoltà in arrivo, è bene tenere gli occhi aperti. Le finanze potrebbero non essere al meglio, forse a causa di spese eccessive, e potrebbe essere necessario affrontare un'ulteriore sfida economica. Pesci La giornata di sabato sarà complessa e influenzata negativamente dagli astri del periodo. In amore, devi essere prudente e evitare di complicare ulteriormente le situazioni delicate. Mantieni la calma con il partner e gli amici, cercando di risolvere le questioni, invece di impuntarti capardiamente. Conflitti inutili potrebbero sorgere per qualche single, se fosse, gestisci con cautela quelle poche opportunità sentimentali disponibili. Sul lavoro, potresti sentirti insoddisfatto, ma è importante apprezzare ciò che hai già ottenuto, impegnati per consolidare l'attuale posizione. L'oroscopo del giorno vi vede particolarmente motivati. Un po' di nostalgia per i giorni che stanno volando via vi accompagnerà durante la prossima settimana. In queste 24 ore, invece, il vostro umore tornerà a stabilizzarsi. Avete voglia di ricominciare e di lasciarvi alle spalle gli eventi recenti. Con il partner avete ritrovato la complicità di un tempo, anche se qualche coppia potrebbe essersi separata. Settembre sarà un mese proficuo, soprattutto se avete un obiettivo chiaro. Pianificare in anticipo sarà la vostra strategia vincente. Evitate ulteriori spese, avete già speso abbastanza questo mese.